L'emergenza continua. Il Gubbio è deciso a fornire continuità al successo interno con la Vispesaro e al contempo migliorare lo scarno rendimento esterno con soli 10 punti racimolati lontano dal Barbetti, frutto di una sola vittoria, 7 pareggi e altrettante sconfitte. Sabato alle 14.30 c'è la trasferta al Franchi contro un Siena, distante 5 lunghezze dal team Gubino e al momento fuori dalla carovana playoff, ma Torrente avrà ancora l'organico ridotto ai minimi termini per assemblare il suo 4-3. L'ultima tegola riguarda il portiere Ghidotti, sin qui sempre presente in tutte le 30 gare disputate, costretta al forfè per un problema muscolare a retto femolare destro. Tra i pali andrà così il classe 2001 Meneghetti, pronto all'esordio assoluti il rosso-blu, mentre in difesa sono out Migliorini per infortunio e Bonini per squalifica, ma rientra Formiconi pronto a presidiare la corsia destra con Tazzer sull'autoposto e Signorini Redolfi al centro. A centro campo, difficile il recupero di Cittadino, mentre sicuramente non ci sarà Bulevardi, appiedato per due turni dal giudice sportivo. Rientra Malaccari sul centro-destra con Dinoglia verso la conferma nel ruolo di regista e Francofonte sul centro-sinistra. In attacco, dove l'ha cercato Fantacci, rischia di restare ancora fuori, torna disponibile Arena, che contende una maglia a Magni, mentre corrono verso la conferma sia assai in masa che Spalluto, tra i migliori nella vittoria contro i Rossignani, che oltre ad analizzare l'ultima vittoria, analizzano anche il momento rosso-blu in un girone dove tutti possono vincere o perdere contro tutti. Mi è piaciuto che tutti correvano, nessuno parlava, abbiamo cercato il risultato, pure con il 2-0 siamo andati a fare il 3-0, non ci siamo chiusi come l'altra volta con il Teramo. Quello penso che è stato un segnale, abbiamo sofferto un po', che è normale, siamo rimasti pure con due giocatori in meno. Mi è piaciuto lo spirito della squadra, penso che puoi sempre migliorare. Serie C, Olbia ha vinto a Modena, se vai a pensare nessuno ci crede che può vincere là, non ha mai perso e perde contro l'Olbia, che secondo me era più facile di tutte le altre. Può succedere di tutto, noi possiamo vincere da tutti e possiamo perdere con tutti. Del peggio superato lo speriamo di sì, però come dice anche Michel, è un attimo entrare da quel periodo e uscirne. Ora ci godiamo questa vittoria, poi pensiamo subito al Sena, però di migliorare sì, si può sempre migliorare e far meglio. Credo molto in me stesso, mi aspettavo di crescere, l'importante per me era crescere, all'inizio sappiamo che ho avuto un po' di difficoltà, però sono andato sempre forte in allenamento e quando mi è stata l'opportunità spero di aver fatto bene, spero di continuare soprattutto.